La no! La no! La no! Mauro! Ci siamo? Mauro! La no! Mauro! Aspetta, non ci siamo, aspetta! Un secondo, eh! Dimmi tu! Andiamo! Salutatevi! Mari, quale partita? Allora! Torino Muzza! Torino, uno! Andrea Dominello! Federico Costara, col due! Palenza, Tommaso Biceco, col tre! Niccolò Bragantino, quattro! Mattia Spiricetti, cinque! Alessandro Famassei! Fabio Casapulla, sette! Alessio Ferrara, otto! Alessandro, sesto, nove! Manuel Mizziano, dieci! Devo Niccolò, undici! Niccolò Borca, dodici! Mattia Re, tredici! Alessandro Spurati, quattordici! Alessandro Spurati! Per il Monza, numero uno! Gelli Fumagalli, due! Cristian Gadda, tre! Tommaso Marcovani! Nel Tizzanis! Cinque! Sei! Leonardo Cantus! Riccardo Farina, otto! Riccardo Paralicino, nove! Ibraimaba, dieci! Tredici! 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 Quattordici! Tommaso Conti! Diciasette! Mattia Martellotta! Diciotto! Jacopo Pugliese! Dicinove! Lorenzo Stimotti! Venti! Alpino Leffe! Uno! Caglioni Samuele! Due! Alessandro! Quattro! Pelaratti Samuele! Cinque! Plevani Alessandro! Sei! Rossi Pietro! Sette! Centimerio Federico! Otto! Terrutti Luca! Nove! Rossi Rodovico! Dieci! Toma Diego! Undici! Orlandi Marco! Dodici! Errigoni Sebastian! Milan! Uno! Frizzarin Daniele! Quattro! Moraru Eduard! Cinque! Ruggeri Liam! Sei! Riccardi Matteo! Sette! Gammarotto Thomas! Otto! Fachi Mattia! Nove! Pinton Francesco! Dieci! Gasconi Matteo! Undici! Sorrentino Alessio! Quindici! Mazreco Anuar! Sedici! Tommasone Mattia! Ventidue! Follutri Achille! Ragazzi! Buon divertimento! Sao! Tommasone Mattia! Weak tree Alan! Cal, Pompasone Mattia! Florian Ryan! Mortier! Anna Mattia! Gatulha Mochi! umbi Stiddio Cass running! Ronos! Meal! R turistana! tra 15 minuti inizieranno le premiazioni ci disporremo a metà campo e faremo un veloce rituale con premiazioni di tutti i ragazzi con le medaglie così avranno un ricordo della giornata di oggi le coppie alle prime tre classificate e la merenda e dei gadget per il ritorno quindi ne abbiamo per tutti intanto abbiamo l'Albino Leffe autentica rivelazione della giornata veramente una squadra molto compatta e tosta angolo per l'Albino Leffe che preme in questo inizio di gara è una squadra è una squadra è una squadra è una squadra brividi su entrambi i campi bella parata del portiere dell'Albino mentre il Toro cerca di mettere in difficoltà il Monza è una squadra è una squadra ora è una squadra Parata fantastica del portiere dell'Albino Leffe Ancora sicurissimo Milano è ora a premere Ecco però che l'Albino Leffe si ripropone sulla sinistra Converge Troppo lunga la palla Grazie a tutti 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 Grazie a tutti